Una vittoria scaccia pensieri che può davvero rappresentare il trampolino della stagione. Il Brindisi azzera quasi tutte le poco invidiabili strisce negative, rialzando la testa nei bassi fondi della classifica. Il blitz contro il Sorrento vale doppio, forse triplo, 1-0-2, che di fatti regala i primi punti a Mister Roselli. Rispetto alla sconfitta contro il Crotone, l'allenatore si presenta intera campana, cambiando il partner di Bonino in attacco. C'è infatti Gantz per il deludente Galano. Sensibili modifiche anche a centrocampo. Confermato Malacca replay, novità invece sulle mezzali con Albertini e Lombardi. Pimpante in salute il Sorrento di Maiuli. I rossoneri mettono nel mirino il sesto risultato utile di fila, 4-3-3 con Vitale, Martignago e Scala in attacco. Il confronto tra le neopromosse parte nel segno dei padroni di casa. Martignago raccoglie l'invito dalla destra, ma dà solo l'illusione del gol al pubblico dello Stadio Italia. Come non accadeva da settimane, è tremendamente spietato il Brindisi. Gantz lavora bene dal limite e pesca Bonino, il cui colpo da biliardo si infila alle spalle di Del Sorbo. Quarto gol in campionato per l'attaccante, ma soprattutto addio al digiuno di Leti in aus da ormai 600 minuti. A giudicare dai primi 40 minuti, il Brindisi non dà la sensazione di essere reparto offensivo più sterile dell'aggruppamento. Uomini di Roselli ancora amicidiali centralmente. Bellucci verticalizza per Lombardi, che indisturbato non può veramente sbagliare. Festa per il primo timbre in campionato e per lo 0-2 che mette in discesa la partita. Nella ripresa la novità per il Sorrento è rappresentata da Bagé, l'ex di giornata apparecchia per la Monica, murato in due tempi da Albertazzi. Formazione costiera, nuovamente insidiosa al 56esimo. Albertazzi, ottimo, si accartoccia sulla bordata di Loreto. I cambi danno maggior linfa al Brindisi. I pugliesi ripartono veloci in contropiede, ma Gantz ha le polveri bagnate a pochi passi da Del Sorbo. Altro contropiede orchestrato dal mio entrato Moretti. Altra fuga, ma Del Sorbo respinge in tuffo. Poco male, vittoria troppo importante del Brindisi. Un appuntamento che mancava addirittura dal 26 ottobre scorso. L'Iterberg la salvezza è ancora lunghissimo, ma questo è un ottimo punto di ripartenza. Prossima missione, tornare ad esultare anche Alfanuzzi, il vero tabù della stagione di Malaccare e compagni. Domenica 17 dicembre, i Brindisini attendono lo sfavilante Picerno, secondo in classifica.